La Fiera Quanto di meglio la tecnica può offrire oggi in questo campo. Il ministro Bo visita il padiglione dell'Eni nel quale si sono già soffermati il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Quest'anno lo stand era dedicato allo stabilimento dell'Anice a Gela. Ecco dei reperti archeologici provenienti dall'antiquarium della città. Non stonano affatto in questo ambiente. Dimostrano invece come una modernissima attività industriale possa inserirsi nell'ambiente dell'antica civiltà sicolo greca. Il tema industriale era svolto largamente nelle sue molteplici fasi. Dalla ricerca del campo petrolifero alla presentazione dei suoi prodotti. Gli uffici dell'avvenire. La conferenza stampa del Cavaliere del Lavoro Bruno Quintavalle è seguita con attenzione da tecnici e giornalisti. Per la prima volta è stata presentata al pubblico la televisione a circuito chiuso a colori. E l'impiegato che passa il tempo risolvendo parole crociate si chiede Ma di questo passo dove andremo a finire?